Ciao ragazzi, benvenuti a ChipperTV. Io sono Giacomo e siamo a CrossFit 3 Fingers a Lozza. Oggi abbiamo un WOD che è composto da costruire tre ripetizioni pesanti di Hang Squat Snatch con le tre posizioni di catch, quindi Power, Deep Power e Hang Squat Snatch. Quello che faremo è vedere prima il warm up, un warm up generico, e poi passeremo a costruire la skill che in questo caso è appunto Hang Squat Snatch per poi passare al vero e proprio WOD. Allora, come warm up abbiamo pensato di fare 5 round di Spider-Man, 5 Spider-Man alternati destra e sinistra seguiti da 5 Squat e poi 5 Push Up to Down Dog. Questo ci serve per riscaldare la parte superiore del corpo, muovere le spalle e prepararci quindi per fare poi lo Squat Snatch. Prenderemo poi la canalina e la utilizzeremo per mobilizzare le spalle. Sempre con la canalina andremo al muro e faremo 10 ripetizioni di Wall Squat. Completato il warm up, passiamo a sviluppare quella che è la skill del giorno, quindi Hang Squat Snatch nelle tre posizioni. Prenderemo tutti la canalina e eseguiremo tutti insieme tre High Hang Muscle Snatch. Andremo poi in progressione, quindi faremo tre High Hang Power Snatch e poi facciamo una piccola pausa. Questa parte va fatta lentamente, sono movimenti che possono essere complessi, bisogna dare il tempo alle persone, ai ragazzi di adattarsi, di metabolizzarle. Dopo questa breve pausa passeremo a tre Hang Power Snatch, seguiti da tre Hang Deep Power Snatch, quindi andiamo un pochino più in profondità, uno Squat un pochino più profondo. E poi tre Hang Squat Snatch. Bene, a questo punto ripetiamo la stessa sequenza con il bilanciere scarico. Una volta completata questa parte, siamo pronti per iniziare la parte dove aumentiamo il peso, carichiamo, e dividiamo la classe in coppie, in modo tale che una persona eseguirà l'esercizio e l'altro darà assistenza e lo controllerà. A questo punto dividiamo la classe in coppie e avremo una persona che lavora e questo ci permetterà di poter dare una maggiore assistenza e controllare meglio l'esecuzione dei movimenti. Per le persone che non sono in grado di eseguire uno Squat Snatch, forse è meglio non iniziare subito con questo movimento, ma fermarsi a un power, cercando di curare la posizione delle gambe, degli arti inferiori e la posizione delle spalle, dando il tempo di acquisire questa competenza. Completata questa parte, passiamo al WOD. Il WOD è un WOD abbastanza impegnativo. Per gli atleti che sono considerati nella classe Advanced, abbiamo tre Roundy Mary seguiti da 12 Power Snatch, due Roundy Mary seguiti da 9 Power Snatch, e abbiamo poi che i Roundy Mary scendono a 1 e avremo 6 Power Snatch. Mary, per essere più chiari, stiamo parlando di 5 Handstand Push-Up, 10 Pistol e 5 Pull-Up. Chi non se la sente di affrontare Mary, perché Mary si sa è una ragazza difficile, abbiamo una versione scalata, quindi tre Roundy Cindy, 12 Power Snatch, due Roundy Cindy, 9 Power Snatch, e poi un Roundy Cindy seguito da 6 Power Snatch. Per renderla ancora un po' più semplice, possiamo scalare ulteriormente e avremo tre Roundy Cindy seguiti da 12 Power Snatch, due Cindy, 9 Power Snatch, un Roundy Cindy e 6 Power Snatch. Anche qui, Cindy, stiamo parlando di 5 Pull-Up, 10 Push-Up, 15 Squat. Anche qui, Cindy, stiamo parlando di 5 Power Snatch,